Lentini, ASP, sabato effettuati due trapianti di cornea nel reparto di oftalmologia dell'ospedale. Due trapianti di cornea sono stati effettuati sabato 25 gennaio nel reparto di oftalmologia dell'ospedale di Lentini. Con il supporto del centro regionale trapianti della Banca degli Occhi del Veneto, della Direzione Strategica Aziendale, è stato possibile effettuare due cheratoplastiche trapianti di cornea a due ragazzi trentenni affetti da una patologia degenerativa della cornea. La responsabile del reparto, Rosalia Maria Sorce, autrice dell'interventi, con la sua equipe esprime soddisfazione. Adesso i due giovani si apre un nuovo orizzonte, potranno pianificare meglio le loro aspettative professionali e affrontare un percorso di vita più luminoso grazie al gesto di chi vede nella donazione e l'ultimo nobile senso della propria esistenza. La cheratoplastica e l'intervento chirurgico attraverso il quale si provvede alla sostituzione totale o parziale della cornea originaria, non più funzionale, fortemente danneggiata, con un elemento analogo sano proveniente da un donatore. Scena di gioia e commozione dei due pazienti e dei parenti, subito dopo gli interventi, perfettamente riusciti. Questi episodi, prosegue Rosalia Sorce, rappresentano sicuramente la più bella delle gratificazioni professionali, oltre che una forte spinta emotiva a dare sempre di più nel proprio lavoro. Donare è un grande atto d'amore, un gesto che va al di là di ogni pensiero, dichiare il direttore generale dell'ASP di Siracusa, Salvatore Lucio Ficarra. Donare un organo significa ridare o migliorare la vita a un altro essere umano e costituisce un indicatore importante del grado di sviluppo sociale. Formulo i migliori auguri ai due giovani e mi complimento con l'equip di oftalmologia, che ha eseguito i due trapianti per l'alta professionalità messa in campo, che inorgoglisce l'azienda e pone l'ospedale di Lentini a livelli sempre più elevati. I due giovani, al primo controllo post-operatorio, hanno voluto ringraziare pubblicamente l'equip con una lettera firmata e hanno voluto immortalare il momento con una foto e ne hanno autorizzato la divulgazione. Lo staff medico che mi ha assistito durante l'operazione di gara al primo paziente, Francesco Larosa, ha dimostrato professionalità e empatia, nonostante il mio stato di agitazione. La mia più grande gratitudine aspetta però alla dottoressa Sorce, che ancora una volta tramite la sua abilità sul campo ha effettuato un magnifico lavoro che non credevo ancora oggi realizzabile. Ergo, sono orgoglioso di poter dire quanto io sia felice di poter finalmente riacquistare la vista al 100%. Mi è stato diagnosticato chelatocono, aggiunge al secondo paziente Vittorio Latina, a luglio del 2016, primo intervento all'occhio destro, con una diagnosi fatta dal dottor Paolo Mangiafico, che mi ha affidato alla dottoressa Rosalia Sorce, e intervento di trapianto di cornea. A distanza di tre anni sono stato sottoposto al secondo intervento all'occhio sinistro. Ringrazio il presidio ospedaliero di Lentini, il personale della sala operatoria, infermiere, anestesista e tutta l'equipe del suddetto ospedale. Specifico ringraziamento al dottor Paolo Mangiafico, con grande affetto e stima alla dottoressa Sorce. Grazie. 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 Grazie.